Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Luca. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buona, buona. a tutti. Arriba. Grazie a tutti. , ma... Fede, ma... e... 3, 2 ma perché non c'è Menphi? ho scritto che non c'era ho scritto che non c'era lo so se la fate a tenere se la fate a tenere si però mi hanno scoperto indietro eh ma torniamo ma noi sti siamo davanti torna davanti torna indietro siamo davanti ci amazziamo mi ha cane minchia facessimo 1, 2 che andiamo tutti su correndo un porco correndo un porco è moda vai loro sono bravi non c'è cazzo da fare vabbè ciao 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 distraghi distraggo gli avversari ciao 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 bravo E perchè 4 minuti? L'hai spenta? Eh si, perchè poi c'erano avanti gli altri Andre è un giocatore di calcio rispetto a Misione Ma che c'è lei che arriva Mirko? Buona Sharon, bravo Luca Ma se lui è calciato non posso fare il pallone di posto? Che cazzo? E' lui in calcio e gli faccio fare un gioco Buona Davide No, 2 no Di là da solo Guarda! 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 Queste sono il gioco Guarda! Guarda! e buon notte bravo Davide bravo Davide bravo Mirko bravo Davide 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 bravo Davide